persona c'era respi prova a saltare perché dovrei saltare Ma ciao cosa che mi sto arrampicando sul vulcano e ancora sull'albero No Ok forse ha girato un tantino Basta no adesso perché anch'io ho un gai salvatotto sulle spi gioche bentornati in un nuovo episodio dei lucky block giganti In compagnia di luca E ciao E oggi siamo Iniziate subito a picchiarvi che non è il momento oggi siamo Guarda cosa succede ai lucky block giganti di fuoco e si è davanti al vulcano guarda ma sei già inciampato una lava ma incredibile Ricordatevi che chi per primo arriva venti morti viene eliminato e il sopravvissuto dichiarato vincitore e tre due Uno e meglio si inizi una fortuna a tutti e vincere il migliore Piano 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 Fortunati E lo so che sono stati ma ma non ci bruciamo Ok a parte non bruciano no non brucia oddio ma si sono Anche quelli che spengo Mi ha fatto trovare cose molto molto interessanti Luca alla prossima Ma dai Un po di fortuna io vado a vedere come sarà staccavando Guarda 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 e l'ho capito che è pieno di mucche luca non serve che ti vanti così guarda cosa ho trovato Signor pieno di mucche che così trovato Ne apriamo dentro il vulcano o finalmente sei qui il cripto Stavo aspettando le carote perché bravo perché tu sei più fortunato Cripto è quello con due aprile questi blocchi perché altrimenti moriamo malissimo vai apri tu luca preparati a punirlo Erano nostri erano nostri Non ti abbiamo chiamato qua Erano nostri blocchi Sono riporto le mie mi metti Via 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 Molleggetto Stati andando Verso il mio like i blocchi ho sbaglio Non venite qua anche di farmi tutto quanto ecco Il mio ponte è sempre il primo a saltare Luca perché? Perché? Luca è esploso Beh buono così buono Hai visto cripto mi sono fatto la p... Oh oh cosa vuoi tu? Fai bra... Fai bra... Cosa diavolo stai facendo? Nova basta che io non volevo farlo ma sono costretto cripto sono costretto vieni qua sul tuo ponte Vieni qui sul tuo ponte che ho un regalo davvero un regalo Anche io ne uno te la do Perché mi... maledetto ma scusa lui mi da una pozione è gentile anche e tu e tu invece mi spero una flash lui una persona Gentile a respi prova a saltare perché dovrei saltare Oh mio dio Oddio dove sono ferma perché perché ma guarda ma ciao cosa che sto arrampicando sul vulcano come Spare di critto tirano a sparare no non provateci non provateci per la proteggimi la propria Poi c'è non si bravi la presa Ora vi vengo a prendere da ora vengo a prendere a un bel attacco in salto vieni qua ma il cripto Lino dai boom ti ho fatto qualcosa ah no nostro Oh mio dio cosa sta succedendo Operatura Ecco è questo il gruppo di lucky block peggiori che abbia mai visto Nel crato alla piccela spaziale non lo fa sto anche morendo ma porca Ma mio spawn point è ancora lì dentro spero che da qualche parte lì dentro lo spero veramente Un mio che non ci credo il mio spawn point è e salvo per miracolo non Immaginerete mai sono esattamente dietro la torre non la posso anche esplorare Fantastica ma tu sei già lì in cima a maledetto ti vengo a prendere Ho usato un render per la stazione esplorando pazzesco c'è mi rovinato lo spawn point ma per il resto Per il resto è la figata non ti serviva cosa si è creato qui c'è pure un'arena di ghiaccio qui in cima Ho capito Sono O mio dio ho già fatto un buco qua bisogna fare fare molta attenzione che dite gente Faccio una ministra molto veloce ha maledetto Venite giù venite giù Guarda come scritto come scappa guardate come scappa Vale come non vale ma sì ma vale tutto dobbiamo tirare giù anche giù No 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 by you bye no 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 E' l'ultimo strato che non ti, via quel mercato qualcuno è caduto a qualcuno no Google ita photo che tu sacppa guardare no ma cosa è contro le regole non è contro le regole mamma mia e ora scendo anch'io ma dove siamo finiti siamo ancora sui lacchi bloc basta gente basta ragazzi bravo vanno a prendere di emergenza il centro vulcano il vulcano è uscito un corso grosso cosa c'è questa roba ancora in alto quanto salti in alto ma che cosa sta facendo ci sta bombardando lui lo siete voi e luca con le dinamiche porca miseria luca smettila ma porca abbiamo già un problema di slime e tu lanci pure dinamiti guarda cosa sta succedendo ma è lo slime che ha fatto cadere tutta questa lava cos'è sta storia la spinta fuori guarda che stai ruttando il vulcano dobbiamo assolutamente trovare un modo per formarlo altrimenti l'isola scompare completamente cos'è questa roba qua espi cosa sono ultimo sono delle palle di cannone aspetta aspetta che ne vedi cripto aspetta che ne vedi cripto io la mando al suo spawn guarda cosa c'è guarda lo spawn di cripto come è andato guarda lo spawn è tutta una coalizione che non accetto ma cosa dici? sei sicuro che meno morti ora ti prendiamo noi con la spada ora ciao e farò un bel volo ma perché non gli fai compagnia ah! mi hai ucciso eh raga sul mio blocco ho un piccolo problema c'è tipo di problema cripto? eh guardate c'è qualche mob ma come qualche mob? ma poi il tuo blocco è praticamente irraggiuncibile attento che io me ne vado me ne vado me ne vado è stata colpa mia a fare esplodere ah no ancora basta Luca ah 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 due di fila oh ecco qua ti ho fatto un bel bel po' di pulizia sul tuo blocco uh un po' di cose da mangiare assolutamente che sto malendo di fame ragazzi ci giratevi cosa ha sporato cosa questa cosa? ma non ha spaccato un blocco di troppo e non ha mai che fanno fuoco cosa è sta cosa? ma come ti hanno di compriano? arrivo però arrivo quanta roba come quanta roba no 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 dove sei? dove sei? ma guarda cos'è? ma hai la rubata tutta lui vallo a prendere vallo a prendere piglialo piglialo no 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 che cado no che cadi quello che vogliamo che tu cada così la nave è nostra esatto lo trovate io scusami cripto non volevo prendilo prendilo è andato giù ah no fate tutto come al solito siete vivi? ahia no è ancora vivo no 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 si vai chi è che mi picchia? chi è che mi picchia? pensavo fossi mio alleato maledetto nessuno guarda che te la faccio pagare guarda che ti butto giù come ho fatto ho buttato giù anche Luca credevano di essersi sparacciati di me vieni qua vieni qua maledetto no 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 sono caduto anch'io espi 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 che cosa? cosa hai trovato? ho una cosa per Luca vieni qua guarda 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 una cosa per Luca? Luca? Luca il regalo per te vieni qua guarda guarda qua stai fermo stai fermo per voi il suo fortino di lucky block prima vieni salta provare qualcosa su di te oh porca me ma sei l'ho fatto prima Espi ma sei nel sole praticamente guardalo in meclissi no è sopravvistuto quel maledetto non ci posso credere guarda Espi guarda cosa faccio vabbè ma sono diamanti mica biscotti cosa bene che ne frega piuttosto io vorrei provare questa nuova spada vieni qua e non scappare che è difficile inseguirti io che scappo non c'è bisogno di scappare quando questi hai anche biscotti no non potevi scatti io oddio ho dovuto farlo cripto ho dovuto farlo stava stava rovinando il genere umano è la mia vendetta è la mia vendetta se ti avvicini il ponte esplode e guarda cosa c'è sul ponte oh no 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 oh si basta con i biscotti non puoi continuare stai lontano non puoi continuare anche tu fai allontanare cripto cripto meglio della SWAT comprimenti cripto è così che bisogna comportarsi è stato un blitz grazie un blitz perfetto grande raga 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 dovete vedere cosa ho trovato cosa hai trovato stavolta guardate sto cubo che ho in mano è un lucky blood rosso è un lucky blood rosso è un lucky blood assurdo non capite cosa ci può essere dentro vabbè ho capito ma citrofono arrivo non colpitemi d'accordo d'accordo sbrigati però ma porca mi sembra più adesso il citofono palle se vabbè ok cosa ma perché lo ha detto che non lo possiamo a giusto non lo sto colpendo aspetta bravo così piano piano e ora mi sa che si fa un bel tuffetto senza essere stato colpito da nessuno bye bye tu e il tuo citofono ah ecco dove sono disgraziati mi avete buttato giù non ti abbiamo sfiorato neanche con un dito come no mi hai buttato giù che stupido no del karma qui espi potrebbe essere ma non lo so dove si sia cacciato quel maledetto non lo so ma c'è tutto chiuso è diventato tutto lava da prima secondo me si è arrabbiato con noi e si è chiuso da qualche parte non lo saprei si mi sono nascosto aspetta mi avete buttato giù prima mi avete fatto eruttare mezzo vulcano d'accordo d'accordo adesso abbiamo visto qualcosa di strano abbiamo visto un velivolo un aereo ah ma alla fine ve ne siete accorti eh magari era quello dentro il blocco che vi volevo far vedere ah ecco perché vabbè adesso lo vediamo a vedere in ogni caso se non ti preoccupare luca ce l'ha fatta oddio ci sono sopra vai giù no non lanciarmi le dinamiti lo so che sei pronto a farlo non le lanciate ma è una prima si va cosa stai facendo ma si è fatto esplodere da solo Luca tutto a posto ma è finito è andato a finire non lo so lo stavo cercando sto aspettando te è un nascondino è un nascondino uh ce l'ha fatta sono entrato dentro l'aereo davvero vieni qua dentro dobbiamo trovarlo come ha detto appena lo vedo gli do il colpo di grazia assolutamente oddio la madonna ma è gigantico hai delle torce qualcosa perché è tutto così buio così scuro ho delle torce oh per fortuna così si vede un po' vediamo dove potrebbe essersi nascosto da qui siamo arrivati aspetta oh qua c'è un posto però hai visto cosa ho trovato una bricciolina una traccia le sta lasciando come polli guarda delle pepite sta lasciando ma cosa sta succedendo qui e poi non parla più si è nascosto veramente bene eh si guarda che roba è un nascondiglio infallibile ma adesso sto posto oh no l'hai trovato prendilo prendilo è un nascondiglio era una trappola non ti preoccupare la giustizia nooo ok ci sono cosa state facendo siete ancora lì a combattere addio si guardate che lontano il fiore oddio guardate che sono pronto a vendicarmi non mi è piaciuto questo aereo in realtà un bel aereo oddio ha detto giù oh Luca è caduto bene questo vuol dire che rimaniamo io e te è cripto vieni qua vieni qua oh si 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 no dai dai un bel tuffetto un bel tuffetto giù mamma mia era un pochino piccolino ma alla fine è bastato per farti passare guarda un po cosa ho trovato che cosa hai trovato delle pozzine è una pozione molto interessante si ma non ci casco più perché scommetto che sono le stesse pozioni che ti fanno saltare come un canguro come è andata prima a cripto e c'è rischiato la meta in quelle pozioni oh a proposito di canguri ma capitate di proprio a fagiolo ma voi lo sapete dove vanno a fare i bagni i canguri ma cosa c'entra adesso dove fanno i bagni i canguri cosa sta dicendo possiamo usare la pozione ma si no 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 ma che pazzo no 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 non sono pazzo ascoltatemi ascoltatemi ok d'accordo va bene madonna c'è bisogno di spingere allora quindi sapete voi sapete voi dove vanno al mare i canguri dove vanno al mare i canguri chiaramente nel mar su più oh porca basta basta mettila vai giù vai giù vai giù vai giù non volevo fare e tu sei ancora vivo sei tu il primo che dovrebbe morire vieni giù vieni giù vieni giù non fare il gattino vieni qua ho già prenotato le vacanze ma cosa c'entra vedi qua è ancora sull'albero certo che è ancora sull'albero ma sei arrivato sei arrivato ieri io no ok forse si è girato un tantino direi che è completamente scomparso decisamente basta no perchè anche io luca sei vivo no bene ok a quanto pare l'unico sopravvissuto sono io forse mi devo calmare forse ti devi calmare un pochino e dai appena esce lo prendiamo preparati lo colpiamo al volo quel maledetto certo che dieci minuti che lo aspettiamo porca miseria non potrebbe sbrigarsi c'erano altre cose da fare non lo so mi pare di sì almeno ma aspetta ma ha costruito la sua base dentro un vulcano quel maledetto cripto le sue per sinistrare oh aspetta aspetta ci sta parlando potrebbe essere una trampola potrebbe anche essere vieni qua vieni qua tieni la porta aperta forse luca è esattamente quello che ci aspettavamo ok forse è meglio che tu ti sbrighi per andare corri via luca corri sbrigati cosa di andare cosa è successo oddio crepto tu sei qui guarda dove luca c'è t'apposto no hai creato un cratero credo che è funzionato è tutta colpa tua l'hai colpito quando me lo so aspettava no 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 stai buono hai fatto bene un colpo mamma mia eh sì lo so che sei tu però non puoi arrivare alle spalle così all'improvviso salve guarda quanta roba c'è oddio cosa oh chi è che ha sporato questa roba chi è che ha sporato tutta sta roba creeper e robe basta basta no avete fatto pur diventare notte cos'è stucco un dungeon qui su un terrario aiuto a posto a posto luca ma come sei schiattato stupidi ender ormai ci sono ancora peggio di silverfish se possibile luca non cadere lo stesso buco di prima no 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 non volevo non volevo un castello di slime dai fai attenzione se l'amore un'altra volta luca tra poco sei a 19 morti ti rendi conto rischi essere eliminato sono caduta anche io cosa c'è qua qua sotto non dovevo scendere lo so ci sto provando non è facile porca misteria aerea ok cripto ormai sarà sicuro qui non ci troverà mai scelta oddio oh no sono troppo vicine sotto oddio non siamo qui non siamo qui bravo sicuri bravo ok grande grande ottima idea guarda lì ci stiamo guardando troppo troppo via 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 a troppo tnt è la mia ultima morte e non ti lascio prendermi faccia è quello che mi vendicherò subito dove stai dove stai ti vengo a prendere maledetto dove sei no cosa si è fatto si è fatto dove andato diversivo era però è pericoloso bisogna colpirlo e farlo secco tutto il fulcano per prendermi eccolo lì vieni qua no 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 è caduta da solo non ci siamo dovuti sporcare le mani davvero non provare mi hai colpito mi ha seccato ma questo non era ancora duello finale adesso lo facciamo siete pronti al duello finale nella bocca del fulcano che siamo pronti nel centro della lava dove tutto è più caldo e tutto si scioglie chi si scioglierà prima di voi due da te secondo me è cripto adesso vediamo comunque fai partire questo duello fai hai fatto un buco dell'arena ma sei vabbè non importa andiamo avanti il botto d'inizio ma ci cadremo dentro vieni qua ok siamo pronti siamo pronti al combattimento cripto sei sei bloccato dalla corrente della lava aspetta un attimo ho una cosa da prendere prima ah eccolo qui che cos'è quella cosa il tuo testamento perché tra poco ne avrai bisogno dai su no è spio di indovinello un altro ma basta ma no no luca luca è un'arma lecita è un'arma lecita è un'arma molto molto cattiva e devi rispondere correttamente tu espi sai dove vanno i chiodi? in spiaggia? non lo so 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 ma sto trovando cose ci sono quasi degli oggetti che cosa? cosa è successo? posso considerarmi vincitore o devo andare a finirlo? ok io mi tuffo vieni qua vieni qua ah dannazione ah alla faccia cosa? che cosa ho usato contro di me? da dove? era una lucky sword quindi gente questo era un altro episodio di lucky block giganti in compagnia di luca e crypto il vincitore è stato crypto questa volta e luca basta con i dinamiti però dai il vulcano ti stai ruttando ovviamente diteci con un commento che è stato il più meritevole di vittoria in questa partita e noi ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao